Questa è l'oliva bianchera, grande e di un verde brillante. Venite a scoprire le sue caratteristiche nel nostro frantoio. Siamo in zona artigianale Dolina, in provincia di Trieste, e durante le giornate dell'olio nuovo in frantoio vi facciamo scoprire l'oliva regina della nostra terra. A presto, ciao! Grazie a tutti!